Dario I di Persia, detto il Grande, fu un sovrano illuminato e un grande conquistatore che governò l'impero Achemenide dal 522 al 486 anno corrente. Durante il suo regno, l'impero raggiunse la sua massima estensione, arrivando a comprendere territori che si estendevano dall'Europa orientale all'India. Dario nacque nel 550 anno corrente in una famiglia aristocratica di origine persiana. Suo padre, Istaspe, era un nobile che ricopriva un alto incarico nell'amministrazione dell'impero. Dario ricevette un'ottima educazione e fu preparato fin da giovane a governare. Nel 522 anno corrente, Dario salì al trono dopo aver sconfitto un usurpatore, Gaumata. La sua ascesa al potere fu segnata da una serie di ribellioni che coinvolsero gran parte dell'impero. Dario riuscì a reprimere tutte le ribellioni e a consolidare il suo potere. Dario fu un sovrano illuminato che si dedicò a migliorare la vita dei suoi sudditi. Introdusse una serie di riforme che avevano lo scopo di garantire l'ordine e la giustizia nell'impero. Tra queste riforme vi furono la creazione di una rete di strade e ponti che collegavano le diverse parti dell'impero, l'introduzione di un sistema postale che permetteva di comunicare rapidamente tra le diverse parti dell'impero, l'introduzione di un sistema di unità di misura e di pesi standardizzato che facilitava il commercio, la creazione di una serie di leggi che garantivano la giustizia per tutti i sudditi, indipendentemente dalla loro origine. Dario fu anche un grande conquistatore. Sotto il suo regno, l'impero Achemenide raggiunse la sua massima estensione. Dario conquistò l'Egitto, la Tracia, la Macedonia, la Grecia settentrionale e parte dell'India. La conquista dell'Egitto fu particolarmente importante per Dario. L'Egitto era una terra ricca e prospera che aveva una lunga storia di civiltà. Dario si dichiarò faraone e si impegnò a preservare la cultura e le tradizioni egiziane. Dario fu un sovrano ambizioso che mirava a creare un impero universale. Tuttavia, le sue ambizioni furono frenate dalla resistenza dei greci. Nel 490 anno corrente, Dario inviò un'armata in Grecia per conquistare Atene e Sparta. Tuttavia, l'armata persiana fu sconfitta nella battaglia di Maratona. Dario morì nel 486 anno corrente, lasciando il trono a suo figlio Cersei. Sotto il regno di Cersei, i persiani ripresero la guerra contro i greci. Tuttavia, anche Cersei fu sconfitto dai greci nella battaglia di Salamina nel 480 anno corrente Dario il Grande fu, un sovrano illuminato e un grande conquistatore che ebbe un'influenza profonda sulla storia del mondo. Il suo impero fu un modello di tolleranza e di multiculturalismo che influenzò le culture di tutto il mondo. Eredità di Dario il Grande Dario il Grande è considerato uno dei più grandi sovrani della storia. La sua eredità è ancora oggi evidente in tutto il mondo. Dario fu un grande costruttore. Sotto il suo regno furono costruiti numerosi palazzi, templi e opere pubbliche. Tra le opere più famose di Dario vi sono i palazzi di Persepoli e Susa, che sono ancora oggi considerati dei capolavori dell'architettura. Dario fu anche un grande legislatore. Introdusse una serie di leggi che garantivano la giustizia per tutti i sudditi, indipendentemente dalla loro origine. Queste leggi furono un importante passo avanti per la civiltà umana. Dario fu anche un grande conquistatore. Sotto il suo regno, l'impero Achemenide raggiunse la sua massima estensione. Questa estensione permise la diffusione di idee e culture da una parte all'altra del mondo. L'eredità di Dario il Grande è ancora oggi evidente in tutto il mondo. Il suo impero fu un modello di tolleranza e di multiculturalismo che influenzò le culture di tutto il mondo. Grazie a tutti.